A papà, è un bravo cristiano quel corvo, mi chiamavo credevo, invece hai visto? C'ha ragione da parlare male di quei buffoni, là si servava solamente quello qua a barba, lo faceva ta 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 ta, a me mi sa che è mezzo corvo pure quella. A papà, quando entro in fabbrica, è il primo sciopero che fiamo, vado alla villa d'ingegnere e ammazzo tutti i cani, così si impara, c'hai anche pure te papà? E come no, io vengo lì, ta 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 ta! Andiamo, Rine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.